Musica Buonasera, ben ritrovati. Nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. Nuovi sviluppi nelle indagini sulla scomparsa di Isabella Noventa, della quale sono in corso le ricerche del corpo. La squadra mobile di Padova ha eseguito una perquisizione nella casa del fidanzato di Deborah Sorgato, pare su segnalazione dello stesso. L'uomo aveva trovato uno scatolone lasciato da Deborah nell'armadio e ha avvertito i suoi superiori che a loro volta hanno fatto intervenire la squadra mobile. Il carabiniere si era insospettito da quanto rinvenuto e aveva avvertito che non gli apparteneva. Dentro a questo scatolone gli agenti della mobile hanno trovato 124 mila euro in contanti e due pistole, una 7,65 beretta e un calibro 9 di provenienza spagnola con rispettivamente 71,51 proiettili. Tutto il materiale sarà sottoposto a perizia per scoprire la provenienza delle armi. Ovviamente bisognerà anche capire la provenienza del denaro. Tra l'altro le indagini appureranno anche se quelle armi sono state utilizzate da poco. Parliamo di una tragedia avvenuta questa mattina. Angela Migotto, 88 anni, è la donna rimasta uccisa questa mattina nell'incendio divampato nella sua casa a San Stino di Livenza. Angelina Migotto stava accendendo una stufa quando è stata investita da una fiammata di ritorno. Il fuoco avrebbe trovato facile esca nel divano dell'abitazione, espandendosi con rapidità. Lei aveva tentato di mettersi in salvo, chiamando aiuto, ma ha subito delle ustioni gravissime che sono risultate fatali. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Venezia super blindata oggi per il summit tra il presidente del Consiglio italiano e quello francese. Appuntamento tra Renzi e Hollande, appuntamento cominciato nel pomeriggio. Imponente il piano di sicurezza disposto dalla questura della città lagunare. E come era previsto, in mattinata si sono registrate le proteste dei centri sociali. Guardate. In una Venezia blindata in mattinata ci sono stati numerosi scontri tra forze dell'ordine e manifestanti. Le proteste annunciate sono cominciate nelle prime ore della mattina. Circa 500 manifestanti, alcuni locali e altri arrivati dal Piemonte, si sono uniti per protesta contro le grandi opere. Erano presenti i no-tav e gruppi contro le grandi navi. La tensione è stata molto alta. Centinaia i barchini presenti in laguna. Cartelli, slogan, scritti e urlati al megafono e musica a tutto volume hanno animato le ore della mattina. Tutta la zona è stata presidiata dalle forze dell'ordine. Contro i manifestanti sono stati usati anche gli idranti. Ovviamente la manifestazione per la tipologia insolita del luogo ha avuto delle difficoltà oggettive. Non sono mancati gli insulti e le parolacce anche per le onde che hanno in qualche caso minato la stabilità dei barchini. Nel centro storico, luogo previsto per il summit tra Renzi e Oland, imponente il servizio di sorveglianza da parte delle forze dell'ordine, anche con tiratori scelti sui tetti. Il vertice veneziano è iniziato con un bilaterale Renzi-Oland, in contemporanea agli incontri tra i rispettivi ministri. Per l'Italia presenti il ministro dell'economia Padoan, quello dell'interno Alfano, della difesa Pinotti, degli esteri Gentiloni, dell'ambiente Galletti, delle infrastrutture del Rio e del sottosegretario per gli affari UE Sandro Gozzi. La delegazione dei ministri francesi è stata invece composta dai responsabili degli esteri, dell'economia, dell'ambiente, della difesa e dell'interno. E ancora responsabili dei dicastari della gioventù per le riforme degli affari europei e dei trasporti. Tanti i temi sul tavolo, da quelli internazionali come la Libia, la Siria, l'Iraq, la lotta al terrorismo e all'ISIS. A quelli europei con i migranti e la crescita in primo piano, passando agli argomenti bilaterali. Tra questi ultimi anche il dossier TAV con la firma del protocollo per la ripartizione dei costi tra Italia e Francia. Nel corso del Vertice, che come abbiamo più volte detto, è stato dedicato a Valeria Solesin e alle vittime degli attacchi a Parigi, si è svolto anche un incontro a Palazzo dei Dogi tra i genitori della ricercatrice veneziana e i due leader. Domani, mercoledì 9 marzo alle 11.30, a Palazzo Chigi si svolgerà la firma della legge sull'omicidio stradale da parte del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, alla presenza di associazioni e familiari delle vittime di incidenti stradali. Fuoco in tre stanze del reparto psichiatrico all'ospedale del mare a Lido di Venezia è successo oggi. Sul posto sono giunte le volanti della polizia e tempestivamente i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio mettendo in sicurezza l'area interessata. Tutto si è fortunatamente concluso senza incidenti per le persone. L'origine sembra dolosa e dunque sono in corso indagini. Novità ieri sera sul delitto compiuto a Pordenone nel quale sono stati freddati Teresa e Trifone. Dopo lunghe indagini sono stati arrestati Giosuè e la fidanzata. Sentite perché. Svolta nell'omicidio di Teresa e Trifone, i due fidanzati uccisi a colpi di pistola a Pordenone. Lunedì sera sono stati arrestati Giosuè e Ruotolo con un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e la fidanzata Rosaria Patrone che è stata posta ai domiciliari. I provvedimenti sono stati firmati dal GIP del Tribunale di Pordenone Alberto Rossi in accoglimento di una richiesta inviata un mese fa circa dai pubblici ministeri Matteo Campagnaro e Pierumberto Wallerin. La richiesta è illustrata in un provvedimento di un centinaio di pagine. Sembra che l'omicidio sia scaturito per vendetta dopo una furibondalite tra Trifone e Giosuè. Quest'ultimo aveva aperto un profilo falso su Facebook e scriveva a Teresa fingendo di essere una donna con la quale Trifone la tradiva. Raccontava anche particolari che solo chi conosceva Trifone poteva sapere. E proprio Trifone aveva capito che a scrivere quelle cose poteva essere stato solo un coinquilino, un amico. Li aveva affrontati tutti fino ad arrivare a Giosuè. Tra i due vi era stato uno scontro fisico piuttosto violento e alla fine Trifone aveva appaventato la possibilità di una denuncia. Il delitto sarebbe l'epilogo terribile di una vendetta messa in atto da Giosuè. Si è insediato oggi a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto, alla presenza del Presidente del Consiglio, Roberto Ciambetti, del Segretario generale Roberto Valente, il nuovo Comitato regionale di controllo delle comunicazioni Corecom, presieduto dal veronese Gualtiero Mazzi, che ha provveduto a presentare i nuovi membri del Comitato. Chiereghin, Nerino, Fabrizio Comencini, Marco Mazzoni, Nicoletti, Luigi Perissinotto. Incendio questa mattina in centro a Padova. Le fiamme hanno interessato la nuova hamburgeria. Vi raccontiamo cosa è accaduto nel servizio. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 10.45 di martedì per un principio d'incendio presso un locale di ristorazione in Piazza dei Signori a Padova. aperto solo da qualche settimana, i pompieri intervenuti con tre automezzi, tra cui l'autoscala e 11 operatori, hanno subito messo sotto controllo il principio d'incendio che si è sviluppato nella mansarda. Al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, le cause che hanno innescato le fiamme. L'edificio, che si sviluppa in quattro piani, ha riportato danni nella parte superiore. Un lavoratore è stato visitato sul posto dai sanitari del 118, senza però essere ricoverato. Durante le operazioni di soccorso, via fiume è rimasta chiusa per permettere lo stazionamento dei mezzi antincendio. Continuiamo il nostro spazio dedicato all'informazione. Questa sera con un ospite è venuto a trovarci l'onorevole Roberto Caon, al quale diamo il benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, onorevole Roberto Caon, sono sempre tanti gli argomenti che si possono discutere. Ovviamente il tempo a disposizione è poco, però io voglio chiedere, in questo momento ci sono tante polemiche sulle unioni civili, sulle adozioni, e proprio su questo ultimo punto io mi vorrei soffermare. Qual è la posizione di fare? La posizione di fare è semplice. Le unioni civili vanno bene, i riconoscimenti alle unioni civili vanno bene, le adozioni e utili in affitto assolutamente no. Molto semplice è la posizione nostra. Diciamo che riconosciamo, il mondo va avanti, ci sono delle coppie di fatto che ci devono regolarizzare. Per quanto riguarda, io dico, andare contro natura assolutamente no. Ok, quindi su questo punto siete chiari. Più chiarissimi così. Mi sembra che sia veramente semplice, perché si fanno ore e ore di discussioni in televisione, vedo anche i miei colleghi, però alla fine è questo il motivo, sia da una parte o sia dall'altra. Noi abbiamo scelto questa perché ci sembra la cosa anche migliore, anche proprio più naturale. Ecco, per quanto riguarda invece la regolarizzazione delle unioni? Certamente sì, ormai il mondo, diciamo così, va avanti, ma ci sono anche le regolarizzazioni tra uomo e donna che vanno sistemate. Dobbiamo guardare il 95% dei problemi. Poi c'è l'altro 5%, invece quel 0,05% per quanto riguarda le adozioni, assolutamente no. Ecco, un'altra domanda che le voglio fare, cambiando completamente l'argomento. Italia fuori dall'Europa, mentre la Lega si sta battendo su questo fronte, voi dite no. No, non è che noi diciamo no. Noi diciamo che l'Europa è da rivedere e si deve dare uno scossone perché è diventato un altro elefante che non capisce esattamente cosa ha i bisogni del popolo. Dall'altra parte, dire a dare fuori dall'Europa o dare fuori dall'Europa vuol dire fare quel salto nel buio senza sapere dove vado. Forse è peggio ancora. Abbiamo visto la Grecia qualche anno fa fare un referendum, dire usciamo e poi nel giro di poche settimane rimangiarsi esattamente quel referendum che il popolo aveva votato in un momento così di impulso. Allora, è facile in un momento di crisi dire che è tutta colpa dell'Europa. È anche vero, l'ho detto prima, però ci sono anche delle grosse colpe storiche e politiche, naturalmente, dei politici che abbiamo avuto, che ci hanno lasciato in eredità un problema. Renzi sta facendo tanto. Non lo so e io dico che in certi casi sta sbagliando. Perché in Europa ha fatto sei mesi, ha fatto il semestre europeo e doveva battere i pugni molto di più. Abbiamo il problema in questo momento del latte. Il latte a 0,35-0,33 un'azienda agricola non può rimanere in piedi. Senza comparto del latte vuol dire perdere 2-3 miliardi di lavorazione e perdere poi le nostre specificità. Cioè, chi viene in Italia? Viene in Italia perché si mangia bene, oltre ad avere la fortuna di avere un territorio e una storia e cultura indidiabile. Se noi vengono meno quelle aziende che ci possono dare questa specificità, queste risorse, logico che diventiamo un paese come gli altri. Ecco, tra l'altro è proprio di ieri la notizia che sono 3.300 i produttori veneti che sono a rischio nella filiera del latte. Io sono stato a delle assemblee e è veramente da rabbrividire perché queste aziende, poi non è che sia gente che lavori poco, è gente che lavora 7 giorni su 7 perché una vacca ha bisogno di sabato o domenica, non è che posso staccare la catena di montaggio. Devo acudire queste stalle in maniera 24 ore su 24, il vitello nasce quando nasce, il latte lo devo mungere e naturalmente non si può permettere che un'economia di questo livello e con questa potenzialità lasciarla andare perché anche qui l'Europa sta facendo poco. L'Europa sta subendo le multinazionali. Invece di proteggere il produttore e il popolo subisce o vuole farsi subire da questo sistema multinazionale che crea dei grossi lavori, cioè dei grossi problemi nella nostra economia. Ecco, visto che è entrato lei nell'argomento, lunedì prossimo dovrebbe esserci un incontro su questo argomento a Bruxelles? Lunedì prossimo ci dovrebbe essere questo appuntamento, però le aziende purtroppo hanno dei problemi impellenti. Allora, come c'è stato il periodo, che purtroppo lo stiamo ancora vivendo, dell'edilizia che c'è stata questa esplosione della bolla e si sono bloccati magari determinati mutui, determinati prestiti, si è cercato di tamponare per un periodo. Io penso che oggi lo Stato italiano è in emergenza tale in questo settore che deve utilizzare questi strumenti. Parliamo adesso di riforme. Tosi ha detto concretezza per modernizzare il Paese. Onorevole Caonna, quali sono le priorità? Guardi, le priorità, noi abbiamo votato le riforme che ci ha portato al Senato questo governo. Non sono le migliori, assolutamente non sono le migliori. Però la storia ci dice anche che io per primo che ho sempre fatto politica che il Senato è un ramo del Parlamento che crea solo problemi e lungaggini nel legiferare. Si è scelto la governabilità di questo Paese e levando il Senato. Levando il Senato cosa vuol dire? Vuol dire avere la possibilità di legiferare in minor tempo e avere la possibilità di dare una governabilità seria a questo Paese. perché qualsiasi legge elettorale va a cozzare con la Costituzione che dice che al Senato la percentuale della maggioranza deve essere diviso secondo territorio, cioè secondo regionale. La macchia di Leopardo che veniva in Italia faceva sì che con qualsiasi legge elettorale era facile pareggiare. L'abbiamo visto con una legge elettorale che ha pareggiato il primo governo Berlusconi, che ha dovuto fare... il primo governo Berlusconi l'ha dovuto fare portando a casa Tremonti dal patto Segni. L'abbiamo visto il governo Prodi che c'erano quattro senatori a vita che andavano a votare per cercare di tenere in piedi il governo Prodi. L'abbiamo visto in quest'ultimo governo che Bersani ha vinto alla Camera ma non ha vinto al Senato. ha dovuto fare l'ETA e adesso Renzi sta portando avanti un governo con una maggioranza non uscita dalle urne. Perciò per dare governabilità si è tolto il Senato. Si è tolto il Senato per fare due cose. Per dare governabilità e per regiferare in maniera più veloce naturalmente seguendo anche gli input dell'Europa. Perché se si è dentro in Europa o si sta a determinate regole o se no non si possono rimanere con determinate regole e non utilizzarle. Perché vuol dire già essere fuori. Chiaro. Onorevole Caone io la ringrazio per questo suo intervento nel corso del telegiornale. Proseguiamo ovviamente con altre notizie. Adesso cambiamo completamente argomento. Papa Francesco nei prossimi giorni firmerà il decreto per la canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta. Allora sentiamo le novità. Una figura esile fragile ma di una forza inesauribile con un cuore immenso. Madre Teresa di Calcutta era capace di donare amore ma anche aiuto concreto con le sue mani con la sua presenza. Nata in Albania divenne suora a 18 anni e si trasferì in India a Calcutta da sempre e per sempre vicino alle persone più povere e più deboli malate. Ha portato consolazione anche in casi gravissimi dove perfino gli operatori sanitari temevano di avvicinarsi. È lei la fondatrice della congregazione religiosa delle missionarie della Carità. Ha ricevuto il premio Nobel per la pace nel 1979. Il 19 ottobre 2003 è stata proclamata beata da Papa Giovanni Paolo II. Oggi è anche un simbolo per la nuova generazione che ricorda e cita spesso le sue frasi segno tangibile che Madre Teresa ha lasciato qualcosa di profondo non solo tra i bisognosi ma anche nella quotidianità dell'anima dei giovani d'oggi. Il prossimo 15 marzo il Papa firmerà il decreto per la canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta. Tra le date possibili per la proclamazione di santità si indica domenica 4 settembre. L'anniversario della morte è il 5 settembre. Due manifestazioni hanno preceduto l'arrivo a Padova ieri del ministro dell'interno Alfano impegnato in città nella presentazione del suo libro. Da un lato la protesta dei centri sociali contro i rimpatri dei richiedenti asilo e per chiedere un'Europa dell'accoglienza. Dall'altra quella di Fratelli d'Italia in difesa delle battaglie di SAP e COESP sindacati di polizia e di tutti gli agenti abbandonati dallo Stato. Non è stata registrata alcuna tensione. Ed ora uno sguardo alla situazione climatica sul territorio. Fino al mattino di domani ancora una circolazione ciclonica con tempo a tratti instabili ancora varie precipitazioni anche a carattere di rovescio. In seguito l'allontanamento verso sud della depressione porterà tempo abbastanza soleggiato e senza precipitazioni. è tutto per questa edizione vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata rimanete con noi di domani. Nelle ultime settimane ha fatto parlare tantissimo a Padova la visita della polizia locale alle cucine popolari. Ci fa chiarezza su questo argomento direttamente il sindaco. Sentite. Ben trovati. Oggi parliamo di cucine popolari. Un tema direi estremamente caldo in città anche se non è in realtà un tema nuovo perché sono ormai vent'anni che si discute del ruolo delle cucine popolari di Padova che sono in via Tomaseo vicino alla stazione è abbastanza evidente a tutta la popolazione il degrado che c'è stato nel corso degli anni. Forse vent'anni fa o trent'anni fa non serviva un controllo adesso invece è diventato estremamente necessario. Già l'anno scorso ne avevo parlato con il gestore che è su Orlia e con l'allora vescovo c'è stato un atteggiamento diciamo estremamente negativo nei confronti dell'amministrazione. Mi spiace anche quello che ho letto questi giorni anche alla difesa del popolo e in altri quotidiani locali dove si fa passare questo intervento di controllo del sindaco come un'azione contro i poveri. Non è assolutamente un'azione contro i poveri tanto che abbiamo anche aumentato il contributo che diamo ogni anno alle cucine popolari che è passato a 10.000 euro quindi insomma un contributo che non è neanche simbolico però devo dire che i frequentatori e l'avevo già detto e ripetuto l'anno scorso appena diventato sindaco i frequentatori devono essere veri poveri famiglie che possono essere cittadini residenti ma anche cittadini che hanno bisogno questo sicuramente però non può essere un luogo di aggregazione di spacciatori e balordi spacciatori e balordi che trovano un pasto caldo sia a mezzogiorno che alla sera e poi girano nei pressi di via Tomaseo e della stazione e questa cosa è diventata estremamente evidente allora l'amministrazione ha lavorato in questo anno e mezzo per dare maggiore sicurezza in stazione attraverso la polizia urbana attraverso i carabinieri attraverso la polizia con le telecamere avrebbe apriveremo anche una stazione proprio della polizia fronte fronte ferrovie però rimane il tema sempre di via Tomaseo le cose non sono cambiate sono stati chiusi degli esercizi proprio di fronte legati al tematica sempre dello spaccio degli stupefacenti e ai balordi che li frequentavano la cosa è cambiata in effetti in alcune zone soprattutto in prossimità della stazione però rimane sempre questo tema allora abbiamo chiesto di effettuare i controlli e di fare una verifica delle persone che stanno all'interno in realtà abbiamo portato questo esempio e ringrazio il padre vescovo per l'intervento che ha fatto l'altro giorno lui è stato estremamente chiaro come sempre è diretto c'è sempre un'interpretazione autentica da parte dei giornali di sinistra che e devo dire anche purtroppo da questa continua critica che fa il direttore della difesa del popolo senza neppure conoscere effettivamente le cose sulla questione delle cucine popolari il sindaco è il tutore della legalità in città e in quella zona e quindi deve poter richiedere che vengano effettuati dei controlli sulle persone controlli interni controlli esterni non si può pensare che le cucine popolari siano un mondo a parte sua e che quindi il controllo venga effettuato da suorlia all'interno che dovrebbe invece effettuarlo all'esterno come succede in tanti altri posti abbiamo portato l'esempio quindi di quello che succede a Mantua dove c'è un regolamento molto stretto ci sono delle domande di accesso che devono essere effettuate ci sono delle verifiche delle persone e non come hanno scritto sui giornali il sindaco controlla i poveri con i cani chi ha scritto questa cosa queste frasi questi giornalisti che vogliono attaccare sempre il sindaco su cose che non fa devono vergognarsi perché l'amministrazione comunale invece aiuta i poveri però vogliamo in maniera non ideologica che vengano controllati e sapere anche chi sono solamente se riusciamo a controllare e sapere che problemi hanno se hanno bisogno della casa se hanno bisogno di un lavoro e allora possiamo dargli una mano questo tipo invece di aiuto generalizzato senza nessun controllo è solamente un placebo nei confronti di una comunità quella padovana che è diventata veramente e l'ho visto in questi giorni con le mail con gli sms con tutto quello che è stato detto è diventata veramente consapevole del problema delle cucine popolari quindi intervistate intervistate i cittadini di quelle zone e capirete che il sindaco sta facendo la cosa migliore a Grazie a tutti.